Siamo nel 2000, i Fratelli Tevani mi chiamano per lavorare con loro, era la prima volta e mi offrono di fare una fiction, Ressurrezione. Per loro era la prima fiction, per me invece ne avevo fatte altre. Io stavo in Spagna, stavo lavorando con Nicchetti sul film Non Urubevi, sono scappato subito a Roma, ho preso la sceneggiatura, l'ho letta, mi è piaciuto moltissimo, nel frattempo mi sono letto Ressurrezione di Tolstoi perché erano tanti anni. Devo dire che Tolstoi era uno scenografo, un arredatore perché descrive talmente bene gli ambienti che mi ha facilitato molto nel mio compito del lavoro di costruzione, di arredamento. Abbiamo incominciato a operare a maggio del 2000 con i nostri sopralluoghi, sia nel San Pietroburgo, a Praga, a Bratislava, in Slovacchia. Abbiamo cercato più che altro dei luoghi molto vicini ai luoghi russi. Il problema era per i taviani avere delle compasse, delle facce molto vicine alla tipologia russa. Abbiamo incominciato a lavorare in agosto a San Pietroburgo. Dopo una settimana di lavoro siamo passati alle nostre costruzioni che avevamo creato a Bratislava in un castello. Più che un castello era quasi un teatro, un grande teatro, assomigliava molto questo castello nelle varie sale al Teatro 5 di Cinecittà. Abbiamo costruito le prigioni. Abbiamo costruito le chiese ortodosse. Abbiamo costruito anche l'ospedale all'interno di queste prigioni. Il lavoro è stato molto proficuo. Poi siamo spostati diverse altre parti, oltre che in questo castello. Le costruzioni anche esterne di un villaggio, la costruzione di un interno della posta. Abbiamo costruito quasi tutto, se non gli esterni. Siamo riusciti a costruire due o tre stazioni. Mi è piaciuto molto questa fiction. Ha concorso al Festival di Mosca e ha vinto un premio. Dunque devo dire che i russi, specialmente a livello di ambientazione, di costruzione della scenografia, è piaciuto moltissimo perché si è avvicinato molto ai loro canoni, a quello che evidentemente era descritto sulle risoluzioni da Tolstoi.